Tutti siamo peccatori, ma guarda la radice del tuo peccato e che il Signore vada laggiù e ricree quello e quella radice amara fiorirà, fiorirà con le opere di giustizia e tu sarai un uomo nuovo, una donna nuova. Ma se io ho dei peccati, vado, mi confesso, due paroline e poi continuo così, non mi lascio ricreare dal Signore, soltanto due pennellate di vernice e crediamo che con questo è finita la storia. No, i miei peccati, con nome e cognome, io ho fatto questo, 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 e mi vergogno dentro del cuore e apro il cuore, Signore, l'unico che ho, ricreami, ricreami e così avremo il coraggio di andare con vera fede, come abbiamo chiesto, verso il Natale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.